Questa ve la devo far vedere perché anche qui c'è da capire una cosa. Guardate, io mi avvicino a Zaki. Prima mi ha sgridato. Lo sentite brontolare? Cosa voglio dirvi con questo? Allora, per il cane l'osso è una risorsa, ok? Molti mi dicono ma io come faccio abituare il cane? Perché voglio che il cane quando mangia non mi ringhi. Mi metto le mani nella ciotola. Ora? Sì, potrebbe essere anche una cosa mettere le mani nella ciotola. Io invece utilizzo questo sistema. Allora, il cane mi ringhia? Ok, perfetto, ma io devo costruire una relazione con lui basata sulla fiducia. Se voi mangiaste e qualcuno arriva a mettervi le mani dentro al piatto. Come vi sentireste? A me mi girerebbero le balle in una maniera fotonica. Allora cosa faccio? Niente, io mi siedo vicino al cane, come in questo momento, a ringhiato, però poi io sono rimasta ferma sulle mie intenzioni. Sono rimasta qua e rimango vicino a lui. Cioè, gli faccio capire con la mia vicinanza che lui non avrà nulla da temere da me. Non gli porterò via niente e quindi lui andrà avanti a mangiare tranquillo. Se dovesse avvicinarsi a Alessandro in questo momento... Avete visto? Però poi dice, ma l'Alessandro non lo tocca, non va toccato il cane, non va toccato in testa, non va toccato da nessuna parte, va lasciato stare. E quindi, avete visto, il cane si è girato dall'altra parte e dice, io mi faccio i spazi miei e mangio. Lavorare sulla fiducia. E questo è importante. Se invece, ma non tutti i soggetti rispondono in questo modo. Andiamo da Katia. Andiamo da Katia. Ecco, Katia è un po' più guardinga. Già ha capito che ci stiamo avvicinando. Tetta bella, tetta bella. Scodinzola, tetta bella. E prende l'allaffago e mi dice, che due balle. E prendeva via. Vuole essere lasciata stare, però non mi ha ringhiato. Se invece vado da Kira. Kira no. Kira è molto più morbida in questo. Non gliene frega niente. anche se comincio a scodinzolare di dietro. Vanno lasciati stare quando mangiano. Se mi eri vicino ancora? Dov'è Ettore? Sì. Andiamo da Ettore. Dio. Ettore, tanto bello. No, non ti faccio niente. Avete visto che ha sollevato la coda? Ha bozzato un leggero scodinzolio. Quello scodinzolio non è felicità. Mentre se vado dalla Befana... Ciao, tetta bella. È la mia tetta bella. È la mia tetta bella. No, lei no. Lei la posso toccare. Zena è morbida in questo. Almeno per ora. Poi bisogna vedere con la crescita. Uffa, sì, ma dai scodinzola. Che bozzone grande. Ok, dai. Già sarà per farvi vedere. Vi faccio vedere ancora Katia che è là tranquilla. Io mi avvicino. Katia non mi farebbe mai niente. E poi dice, ma mica tu coglioni. E se ne va. È giusto che gli è stato dato un qualcosa che per loro ha una certa importanza in questo momento. Vanno lasciati stare. Quindi se avete un cane che ringhia mentre che mangia, non rompete le balle, non toccatele. Al massimo cominciate a sedervi vicino a lui. Non troppo vicino. Cominciate con un metro e mezzo. Poi di giorno avvicinate la distanza. Il fatto che lui capisca che voi non gli avete dato il cibo e poi non glielo portate via. Questo andrà a beneficio della vostra relazione, della vostra fiducia. Umberto, come stiamo? Stiamo bene. Il vantaggio che siamo qui praticamente sono recintata dentro all'aperta campagna e c'è il sole oggi e ce la facciamo passare così. Magari stasera sul tardi, quando magari anche le attività della campagna si fermano un attimo perché i contadini comunque devono voltare la terra per farla lavorare perché la natura non è che ci aspetta. Quando l'attività si è un po' fermata, magari usciamo 10 minuti, un quarto d'ora con i cani in campagna e andiamo là dietro, là, in quel campo là, praticamente attaccato a casa. Ci vediamo oggi pomeriggio con il libro. Baci, baci e state bene.